Se arrivate qui, non cercate di sfondare. Non cercate di fare gli eroi per segnare a tutti i costi. Il centro attacco lo voglio qui e a lui dovete passare. Passare, passare sempre. Fate correre il pallone, non correte voi. Non cercate di correre dietro, non siete in condizioni di correre per 90 minuti, credete a me. Questo vale soprattutto per le ali. Se potete passare al centro, non c'è andate voi. Cercate il calcio d'angolo. Rallentare il gioco va a vostro vantaggio, il che significa che se... Mi dia il gesso. Colby, mi dica di passarmi il pallone qui, E io poi faccio così, 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 così. Go. Facile.